buongiorno a tutti anzi buonanotte visto che è l'una e mezza più o meno mi sono visto come vedete c'ho su una felpettina come sempre da che freddo che fa perché dobbiamo parlare di sci alpino e slalom speciale maschile da bengen che si è disputato giusto qualche giorno fa quindi partiamo subito con la seconda mash perché la prima mash è sceso per primo noel ha fatto il tempo di 50 e 72 e gli sono finiti tutti dietro quindi non mi sembrava il caso di stare lì a a fare a dire niente perché è sceso lui è arrivato prima chiuso il discorso andiamo subito alla seconda che è quella che poi dà il risultato finale il risponso finale vi dico solo la classifica giustamente perché dopo la prima mash noel è primo christopherson è seconda ben 67 centesimi quindi noel ha già tra virgolette perché tutto può succedere ipotecato tra virgolette la gara al terzo scusate al terzo punto c'è al terzo punto al terzo posto c'è schwarz a quarto posto a pari merito ci sono zenose il gigante buono zenose e pinturo a 99 centesi al sesto posto un altro e sequo perché abbiamo meillard lo svizzero e foslovel sole bag a un secondo e 18 di distacco all'ottavo posto abbiamo nef a 1 e 21 al nono koroshilov a 1 e 43 e al decimo buffa jande a 1 e 46 per quanto riguarda gli italiani razzoli è undicesimo morberger è quattordicesimo e vinazzer è a due secondi e 04 parte la seconda mash e il primo a scendere è di gruber trentesimo dopo la prima mash giustamente è il primo quindi sapete che a parte quando fanno la combinata che chi vince la discesa o il super g parte per primo poi in slalom nelle altre gare c'è di slalom speciale slalom gigante il trentesimo parte per primo e il primo parte per trentesimo e si qualificano solo i primi 30 quindi il primo a scendere è di gruber vediamo quale sarà il suo tempo e se riuscirà a recuperare qualche posizione il suo tempo è 1 48 e 39 tocca a dogen provare a stare davanti a di gruber e ci riesce con ben 33 centesimi di vantaggio vedremo se gli basteranno per ricoprire qualche posizione dalla ventottesima che aveva dopo la prima mash quindi di gruber comunque una posizioncina l'ha recuperata tocca a strain provare a portare portarsi davanti a dogen 27esimo a pari merito con philip e lo sciatore austriaco ci riesce per soli 13 centesimi per ora come potete vedere a parte appunto di gruber che ha recuperato una posizione cina nessuno riesce a recuperare qualche posizione vediamo se ci riesce strain tocca a vinazzer 23esimo dopo la prima mash quindi strain qualche posizione cina l'ha già recuperata vantaggio interessante di vinazzer tra i 23 centesimi non è tantissimo però purtroppo dopo il terzo intermedio in cui aveva ben 55 centesimi di vantaggio va a inforcare e perde pure uno sci quindi deve salutare la gara peccato però stava scendendo bene aveva anche 55 centesimi di vantaggio se fosse riuscito a finirla magari incrementava ancora poteva entrare nei 15 o magari anche nei 10 però è inforcato però è giusto scendere a tutta tocca a grange ventunesimo dopo la prima mash e 26 centesimi di vantaggio alla fine si prende il primo posto con 21 centesimi di vantaggio vediamo se gli basteranno a lui per recuperare a sua volta qualche posizione per ora va abbastanza bene ne ha già recuperate un bel po perché adesso tocca a morberger 14esimo dopo la prima mash e ci vantaggio è di 44 centesimi purtroppo qualche errorino di troppo addirittura casca quasi per terra ma riesce a rialzarsi a stare in pista a proseguire ma termina con bene un secondo e 12 di ritardo al dodicesimo posto quindi perde un botto di posizioni scende yule dodicesimo dopo la prima mash e vantaggio di 54 centesimi alla fine lo svizzero riesce a scalzare grange dal primo posto però per soli 33 centesimi quindi ne ha persi ben 21 gran bella prova di nonno grange 35 anni ve lo ricordo però ha fatto una bella manche ha recuperato già un bel botto di posizioni tocca al nostro razzoli undicesimo dopo la prima mash e vantaggio di un solo centesimo sullo svizzero ahimè ne perde 51 ne perde 53 perché ne aveva uno di vantaggio è solo terzo con 52 centesimi di vantaggio però in ogni caso sarà dei 15 ed è già un buon risultato tocca a coroscilob nonno dopo la prima mash e 5 centesimi di vantaggio su yule e con una gran parte finale di gara si prende il primo posto ma per soli 7 centesimi quindi ha incrementato di due centesimi vediamo cosa combinano gli altri tanto mancano solo otto sciatori quindi in ogni caso coroscilob e yule hanno la certezza di esserne 10 comunque la classifica vede coroscilob primo yule secondo grange terzo gran bel recupero male che vada sarà undicesimo quindi recupera ben 10 posizioni quarto razzoli che male che vada ne perde una sarà dodicesimo quinto strain sesto nord botten settimo muffagian de ottavo augen nonno ronhiding e decimo strasser sedicesimo ahimè è morberger che quindi male che vada sarà ventiquattresimo vabbè purtroppo è andata male la seconda mash e intanto zitto zitto cacchio cacchio coroscilob continua a recuperare perché adesso tocca pinturo un quarto dopo la prima mash provare con 44 centesimi di vantaggio a stargli davanti perché gli altri ahimè non ci sono riusciti ma dopo il secondo intermedio in cui aveva ben 60 centesimi di vantaggio quindi aveva incrementato di 16 il suo vantaggio va a inforcare una porta e si ferma e si ferma si rende conto di aver inforcato si ferma subito perché se se inforchi fai finta di niente arrivi in fondo paghi 999 franchi svizzeri di multa e siccome i soldi non puzzano e non vedo perché deve buttarli via se è fermato subito ha detto signori ho inforcato tocca a christophersen secondo dopo la prima mash perché nessuno riesce a stare davanti a coroscilob per ora e il campione norvegese perde parte del vantaggio non aveva 76 centesimi di vantaggio sul russo ma con 43 centesimi di vantaggio e primo è sul podio come coroscilob male che vada sarà terzo e adesso christophersen deve aspettare noel che ha 67 centesimi di vantaggio e vedere cosa combina noel tocca appunto a noel 67 centesimi su christophersen e si prende il primo posto con 40 centesimi quindi ne perde 27 ma comunque ha gestito bene la gara seconda vittoria consecutiva vende che ne aveva vinto l'anno scorso vince anche quest'anno doppietta quindi e zitto zitto cacchio cacchio sia uno che l'altro fanno ciao ciao a pinturo per quanto riguarda la coppa di specialità con christophersen che diciamo che ha messo una bella ipotechina sulla vittoria finale nello slalom speciale però attenzione a noel attenzione a noel perché noel sta diventando veramente molto molto forte nella lotta nella di specialità una bella lotta tra christophersen e gli altri vedremo vedremo intanto vi do la classifica finale dello slalom speciale di wenger che vede appunto noel al primo posto christophersen al secondo un coroscilo che era ottavo anzi era nono era nono e zitto zitto cacchio cacchio se ne va sul podio quindi fossole bag a quarto jule quinto zenosen sesto schwarz settimo nef ottavo grange che recupera ben dodici posizioni nono e mei yard e decimo per quanto riguarda gli italiani undicesimo razzoli e ventitresimo vinazza mentre invece ahimè l'altro nostro italiano è uscito detto questo io vi saluto vi ringrazio e ci vediamo alla prossima ciao